Sì, sono Maria Grazia Monuccini, presidente di Federbio. L'agricoltura biologica è un'espressione concreta dell'agroecologia circolare proprio perché attraverso la gestione della sostanza organica nel suolo e la restituzione annuale del lumus consente di mantenere nel tempo produzioni sane e che mantengono proprio un suolo fertile e sano. Quindi il biologico cresce, l'agricoltura convenzionale invece è in diminuzione. È un'opportunità, un'opportunità per aumentare le produzioni biologico ma anche per offrire soluzioni nuove per il convenzionale che sappiano fare a meno della chimica di sintesi e che sappiano soprattutto valorizzare il prezzo perché per un cibo buono, coltivato come si deve, ci vuole un prezzo giusto e il biologico può essere la prepesta per tutta l'agricoltura.